salve a tutte e tutti qui il vostro senten chan oggi che 2 di gennaio venerdì sono le 19 36 vi auguro un buon anno a tutte e tutti voi che mi seguite e anche quelli che mi guardano per la prima volta qui mi sto filmando in questo tutorial o meglio dire revival perché di vecchia tecnologia con il mio no cash a 302 anzi per meglio dire con il cellulare che gli ho regalato a mia madre per il complanno del 2013 di 3,2 megapixel ma adesso bando alle ciance che non so che cosa sono e passiamo a quello che ci interessa il nostro tutorial come vedrete in questo tutorial io vi presenterò il mio vecchio cellulare il mio primo cellulare intelligente che farà molte funzioni perché in un altro video vi presenterò il mio vecchio cellulare che era un motorola c 350 ma questo invece un lg la vita è bella la vita è buona nice good della linea che è un kp 215 a quello che si vede qua nel manuale purtroppo la scatola mi si è sfasciata comunque era molto sottile qua ci aveva l'adattatore per la micro sd per passare al computer che veniva con una memoria microsd di un gigabit e qua gli auricolari scusate dell'interruzione però stavo dicendo questi sono gli auricolari particolare di questo modello e che tanto il caricabatterie con una prolunga enorme sembra di più di un metro come gli auricolari hanno una micro presa usb e mi sembra che l'usb 2 è un cellulare che non so quando è uscito ufficialmente però adesso per accenderlo lo accendiamo e così non perdiamo altro tempo nello studiarlo ecco che si accende a una accensione rapida funziona con java sempre ci chiede perché adesso non l'ho programmato l'ora è tutto come potete vedere era il mio vecchio lgkp 215 quando avete la prova è perché mi potete osservare bel cellulare carino adesso c'è una memoria di 2 gigabyte e non so a che gli serve perché gli va larga comunque accediamo al menu e poi ci abbiamo se si possono vedere bene anzi facciamo zoom zoom ci abbiamo le funzioni che sono quelle che ha anche questo cellulare che sta filmando il nokia asha 302 navigazione con il browser di java multimedia camera vedete come come film come riprende certo purtroppo i video purtroppo i video non sono tanto speciali infatti con questo cellulare adesso vediamo se camera di video purtroppo i video sono di un formato molto piccolino e non so quanto tempo possa filmare senza interrompersi comunque adesso adesso vi voglio rivelare delle cose segrete e non si tratta di una frase di filippo l'ognostico si tratta delle cose segrete che non tutti i possessori di un lg kp 215 a conoscono e non so se c'erano altre versioni di kp 215 che forse loro conosceranno per farla breve basta introdurre questo codice 2 945 hashtag o numerale perfetto i numeri di colore non li riprende il mio cellulare asterisco e numerale e appare questo menu nel quale potrete vedere bibi test camera lcd backlight è un po come un codice che si mette nel galaxy young 53 60 e ti fa lo stesso tester vibratore per esempio scegli vibratore e vibra poi scegli buzzer melodia on melodia off non melodia adc cioè purtroppo non riesco a filmare bene lo schermetto però sono tutte le operazioni di testaggio che fa e francamente lasciatevelo dire è veramente questo testaggio del kp 215 a un testaggio di cazzo c'è tutti i dati da vabbè questo è stato il mio tutorial revival del lg kp 215 a un bel cellulare con un buon menù c'è stata anche un buon buon buffet freddo però il menu è molto bello scorrevole per essere un cellulare economico e molto di concessione molto vecchia io l'ho avuto già quando era in liquidazione perché costava 550 cioè 500 diciamo 55 euro non sono qualche cosa così però me l'hanno in pratica omaggiato per 15 euro quando ho comprato il mio secondo computer che il primo simi e mi si è bruciato nel 2006 allora il mio secondo computer di due nuclei il primo era un pension terzo il mio secondo computer di due nuclei io tanto insistere che volevo lo sconto e il venditore il commesso mi ha detto ma guarda guarda che ci abbiamo un cellulare in offerta adesso lo chiudo per risparmiare la batteria ci abbiamo un cellulare in offerta ed è un ed è un lg kp 215 io ho detto e che me l'hanno fatto vedere e mai l'ho detto guarda c'è cameretta economica è tutto ma io già c'avevo una filmatrice digitale quindi l'ho comprato e poi purtroppo nel 2012 e l'inizio del 2012 si è rotto lo spinotto e mi è difficile ricaricarlo perché cellulari come anche il galaxy un 53 60 la presa dati usb carica anche cellulare invece adesso stanno uscendo dei cellulari come nokia asha 302 che hanno una spina a parte per caricarli col caricabatterie e poi magari poi anche caricare usb del computer trasferendo i dati queste cose quindi ecco questo è stato il mio tutorial di questo cellulare che ho fatto di tutto per conservarlo ogni tanto riesco a caricarlo ma lo spinotto usb micro usb rotto perché mi darebbe pena a buttarlo via io conservo le cose ho anche conservato questo che è veramente rotto perché non funziona più l'erickson t 18 di quanti di voi lo hanno avuto era di mia madre del 1999 del 2000 farò un tutorial su questo ma non so che cosa potrò farvi vedere per il momento tutto questo già forse il mio secondo terzo tutorial tecnologico se volete vedere gli altri cercateli nel canale il tablet euro case devo fare un altro tutorial per spiegare i difetti di quel tablet questo cellulare nokia asha e vorrò mostrarvi anche il samsung galaxy young 53 60 e poi il motorola c 350 credo che sia si chiami così beh adesso vi ringrazio di tutto buon anno nuovo di nuovo grazie per vedere video dei miei canali oggi le televisioni sono aumentate io tengo insieme prendo degli appunti su quante visioni ciò del canale e voi potrete vedere che oggi 22 sì perché qua 21 vabbè 2015 21 sono aumentate di 498 con rispetto all'altro ieri che erano e oggi abbiamo raggiunto le 82.162 visioni del canale posso ritenermi soddisfatto posso ritenermi soddisfatto però vorrei che youtube mi pagasse quindi mi raccomando vedete i miei video perché sono disoccupato guardate anche che camicia che ho che gli ho ritagliato il collo e le maniche perché già si stava sfasciando ed è una camicia che c'è più di 30 anni vedete quindi aiutatemi guardando i miei video facendo rivedere a tutti i vostri amici magari superiamo le 100.000 visioni del canale in poco tempo magari speriamo alle 100.000 visioni per ogni video non fate più di 450 grazie di seguirmi buon anno nuovo a presto ho giocato la lotteria non ho vinto niente faccio dei tutorial come dicono i miei amici della zona flagrea partenopea caggia fappa a capa ecco allora rivederci grazie di tutto in bocca al lupo crepi lupo e a pasqua forse prima farò dei video allora già se volete comprare questo in ebay in mercato libre in nuovo perché li vendono nuovi in astuccio è un buon affare ma come macchine fotografiche una chiave che a filma peggio non so comunque di sicuro con 2 euro 1 ancora nuovo da casa lo trovi per i nostalgici c non dell'high tech del abbandon hardware ciao questo è tutto con il nostro lgkp 215 a